Ci sono partiti come la Lega e Forza Italia che hanno impostato delle campagne per uscire dall'euro. Ora se cambiano idea di nuovo loro, allora avete di fronte della gente a cui non va data nessun tipo di credibilità. Noi andiamo avanti e chi lo sa che non portiamo a casa un risultato storico.